giallo a barchi nella provincia di pesaro urbino dove una donna è stata trovata morta al corpo di giannina fucili 65 anni è stato trovato nella villetta dall'amico del figlio in casa anche il marito giorgio pazzaglia 80 anni stato confusionale sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri vigili del fuoco ora toccherà agli inquirenti capire le dinamiche della vicenda